Oggi ragazzi ci parliamo di un SSD top di gamma, ovvero il Kingston KC3000, da 2TB e vi devo dire ragazzi, me l'avete richiesto nei commenti, oggi vediamo un po' come si comporta nei vari test, ma vediamo anche l'autocomponentistica. Vi anticipo che è un SSD con drum a bordo, ma maggiori dettagli al riguardo di questo SSD di Kingston, beh, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SSD Hardware, sono Davide e con la traduzione oggi parliamo del KC3000 di Kingston. SSD super interessante, ovviamente un top di gamma e niente, mo lo poso sul tavolo perché se no se me casca so danni, è un SSD che è al limite della tecnologia, 7000 MB in lettura, 7000 MB in scrittura. Per quanto riguarda la componentistica, mo lo analizziamo, ma è molto interessante visto che è un top di gamma e come tale ha anche drum a bordo. È la versione da 2TB, costo più o meno 170€ al momento su Amazon, ma i prezzi insomma fluttano, 170-180, per quanto riguarda invece la versione da 1TB vi costa circa 100. 110€ al momento e i prezzi purtroppo in questo 2024 saranno tutt'altro che rosei. I prezzi degli SSD in generale oltre questo, ma tutti, gli SSD sul mercato sono tutti aumentati a quelli che erano forse il 2022, più o meno. Purtroppo c'è stata una sola produzione di memorie e a questo momento, ecco, smaltire quelle ne stanno producendo meno e producendole di meno costano di più. Bisogna farci il callo, purtroppo. La prima attaccare è parlare di questo SSD che mi ha inviato Kingston e quindi li ringrazio per il sample. Beh, vi invito a iscrivervi al canale ragazzi, il bottoncione rosso è gratuito, lo trovate qui sotto, lasciate un like, un commentino. Fatemi sapere i prossimi SSD che volete vedere sul canale, già ne ho portati due di Silicon Power, questo è il terzo. Se sono video che vi piacciono, ovviamente fatemelo sapere tramite il tasto dei like, ok? Poi il commentino, eccetera, eccetera, eccetera. Aggiungo in descrizione il link per acquistare l'SSD se siete interessati. Prima vedetevi ovviamente il video e poi il canale Telegram delle offerte e chat di gruppo. Parliamo un po' di questo SSD e come non possiamo parlarne partendo dalla confezione. E purtroppo ragazzi a me dispiace quando arrivano questi cartonati con l'SSD dentro perché sono costretto a cannibalizzare la scatola per tirare fuori l'SSD che è dentro una plasticotta ben protetta. Quindi comunque non riceve danni e ecco qui che c'è poco da dire. L'SSD è questo piccolino, carino, con già un pad in alluminio montato da un lato, mentre dall'altro abbiamo il solito adesivo. Pad carino con la scritta Kingston, il modello, qualche disegnino, dietro insomma altre specifiche. Per quanto riguarda le componenti a bordo vi dico subito che è un double side, quindi abbiamo componentistiche, quindi memoria eccetera sia avanti che in drè. Per quanto riguarda invece proprio effettivamente che controller, che memoria, che DRAM abbiamo a bordo, non ho tolto gli adesivi, più che altro ecco uno è quello in alluminio e l'altro non volevo toglierlo per non invalidare la garanzia, che ce sta dentro. Abbiamo utilizzato il software VLO che comunque analizzando il controller ce può dire che ce sta a bordo. Abbiamo un controller FISON E18, il top di gamma per la Gen 4, che ha 5 cordi tipo ARM Cortex A5, 8 canali da 1600 MHz per second, insomma un signor controller. Per quanto riguarda le NAND, quindi le memorie, abbiamo delle memorie di Micron. Abbiamo appunto 32 DAI Micron B47R, che so, le memorie 176L TLC. Non sono le ultime memorie di Micron ma sono le penultime, quindi comunque ottime memorie con velocità 130 MB per second o 1600 MHz per second. Per quanto riguarda la DRAM, abbiamo detto un SSD top di gamma come tale appunto, abbiamo DRAM a bordo. DRAM probabilmente di Micron 2048 MB da 1600 MHz per second. Ovviamente di DRAM 4. Queste sono le specifiche, passiamo un attimo al volo alle temperature perché mi preme dirvi che è un SSD che scaldicchia un pochino, passiamo da 65, 70, 72 gradi, niente di esaltante. Però durante i test ho visto come martellando la temperatura sale parecchio. Diciamo che con questa memoria a bordo, abbiamo detto memoria TLC eccetera, e fare massimo 80 gradi è la cosa buona e giusta. Quindi ecco, stare sui 72, 73 comunque non è un problema. Per quanto riguarda i test ragazzi, perché effettivamente sì, queste sono le specifiche. Andiamo a vedere se l'SSD le mantiene, se effettivamente fa 7000 MB lettura, 7000 MB in scrittura. E i test che abbiamo fatto sono su CrystalDiskMark, AttoHDtune, che in realtà poi non ne parlo apertamente, però insomma i grafici ve li piazzo comunque. e AIDA64. Sto per scrivere la recensione sicuramente in collaborazione con Black sul sito, quindi se ancora non ci stai, al momento che sto registrando ancora non è scritta, la trovate il link qui sotto in descrizione, però intanto vi porto i test qui. Per quanto riguarda CrystalDiskMark, lo utilizziamo per vedere un po' come si comporta l'SSD tra lettura e scrittura sequenziale. Ovviamente fa anche test in lettura e scrittura randomica, focalizziamoci un attimo su quella sequenziale, e confermiamo la velocità di 7000 MB in lettura e in scrittura. Poco meno in scrittura e lettura, siamo poco di più, però ecco, effettivamente sono dati confermati. Per quanto riguarda poi la scrittura randomica, abbiamo comunque risultati ottimali. Per quanto riguarda Atto, abbiamo fatto test sia in MB sia in IOPS, quindi in Input-Output per second. In MEGA, come è andato? 6.5 GB in lettura e in scrittura. In IOPS, 90.000 circa in scrittura, 127.000 in lettura. Per quanto riguarda invece AIDA64, che a mio avviso è il più interessante, perché in scrittura ci permette anche di capire più o meno quant'è la cache SLC a bordo di questa SSD, che ricordiamo è quello che ci fa andare al top delle velocità, perché una volta che è finito la cache andiamo a una velocità ovviamente più lenta, quella reale delle memorie a bordo. Per quanto riguarda comunque AIDA64, tutti e due test lineari sono stati fatti con blocchi da 1 MB e per quanto riguarda la lettura stiamo a circa 6000 MB in lettura. Per quanto riguarda in scrittura stiamo sempre intorno ai 6000 MB, però dopo il 35-37%, quindi più o meno su 2 TB sono 7-800 GB, andiamo a 1000 MB, più o meno, poco meno in realtà. Ho visto altre recensioni che sta tipo a 1100-1150, qui stiamo un po' sotto però, dipende da un sacco di cose. Sta di fatto che effettivamente abbiamo una cache a bordo di 7-800 GB, che è una delle cache SLC più grandi che abbiamo sul mercato. Questi sono i test ragazzi, come ho detto, mentre chiacchiere ovviamente sono passati i grafici, passeranno anche quelli di HD Tune Pro, che non ho esposto qui, ma perché più o meno sono repliche di quello che già abbiamo visto su AIDA64. E niente, risultato, che come resto SSD di Kingston, ragazzi è un SSD top di gamma. Tra questo, per esempio, il FireQ da 530, che sono molto simili. Sono SSD che sono super consigliati per stare not tranquilli, De più, sia le memorie TLC a bordo, sia la presenza di DRAM, fa sì che è un SSD che duri. Ricordo come la DRAM, in fasi di scritture importanti, ma anche scritture e letture, in base a quello che fate col PC, può aiutare molto perché va a stressare meno le memorie, quindi è un SSD che potenzialmente dura più tempo. Il prezzo, come ho detto, 170€ per la versione A2T, se no quella da A1T, 110€. Ovviamente questi sono test sulla versione A2T, quella A2T potrebbe avere qualcosa di diverso, però ad occhio le specifiche sono le stesse. Ed è un SSD che posso solo che consigliarvi se volete qualcosa di super affidabile nel tempo. Spero che questo video vi sia stato utile, ragazzi. Vi ho detto, arriva anche la recensione scritta sul sito, dove almeno potete vedere un attimo i test meglio, eccetera. Appena c'è stato, guardate il link qui sotto in descrizione. Quindi se vedete questo video e già c'è stato, ovviamente l'abbiamo scritta. E niente che dirvi, ragazzi. Grazie per vedere i miei video. Ovviamente lasciate un like, un commentino. I like mi servono soprattutto per capire se volete vedere altri video sugli SSD. E ci sono dal vostro Davide, dal piccolo Baby Yodo con la testa fluttuante. E ci vedo in un prossimo video. Ciao!